Ciao amici! Come dice bene il detto, non ci sono cani cattivi, solo padroni sbagliati. Di conseguenza, oggi, dalla Laskan Malamute al Pitbull, ci interessiamo i cani di cui dovresti aver più paura, se non sono addestrati correttamente. Iniziamo dalla Laskan Malamute. Si dice che è il più potente dei cani da slitta che esista, ma è anche una delle razze canine più antiche. Questo cane era addestrato dalla tribù eschimese dei Malamute in Alaska, da cui il suo nome. Intelligente, leale e pieno di energia, è un ottimo cacciatore, ma è anche un cane famoso per il suo lato rissoso e dominante all'interno di un branco. Ecco la cosa che spiega un po' il suo temperamento un po' violento. Testardo e intimidatorio, è famoso soprattutto per i suoi morsi e i suoi attacchi, talvolta mortali. Tuttavia, nulla di ciò rischia di succedere se viene addestrato correttamente. Ecco perché è fortemente consigliato che questa razza venga educata da una persona esperta. Il Doberman viene spesso considerato come una delle razze canine più pericolose, a torto. Perché a differenza dei luoghi comuni, il Doberman diventa molto affettuoso se viene addestrato bene. Benché possieda un forte carattere, il Doberman è un cane coraggioso, molto forte, intelligente, ma soprattutto molto leale verso il suo padrone. Allora, a cosa è dovuto il suo presunto pericolo? Ebbene, bisogna dire che il Doberman è un cane di difesa, quindi è molto protettivo verso il suo padrone. Tra l'altro può dimostrarsi diffidente o persino aggressivo verso le persone che non conosce. Ecco perché è molto importante renderlo socievole fin dalla più tenera età. Ma al di fuori di tutto ciò, il Doberman è un cane tenero se viene addestrato in modo adeguato. Invece, questa tenerezza può avere dei limiti e specialmente i bambini devono sapere che al Doberman non piace essere indispettito. E poi, per non renderlo aggressivo o arrabbiato, l'esercizio fisico è necessario perché il Doberman è un cane molto sportivo. Tra i cani considerati come quelli più pericolosi del mondo, appare una razza proveniente dall'Asia del Sud, il Bullikutta, chiamato anche Mastino Pakistano, oppure Mastino di Alangu. Questo cane è imponente, ha molti nomi, ma anche numerose caratteristiche che lo fanno apparire tra le razze canine di cui bisogna aver paura. Utilizzato per il combattimento nel suo paese d'origine, il Bullikutta è anche una buona guardia, è un ottimo cane da difesa, è molto protettivo verso il suo padrone, intelligente e molto robusto. Tuttavia, questo cane tende ad essere molto dominante di natura aggressiva, normale visto che viene utilizzato come cane da combattimento. Soltanto un padrone addestrato potrà quindi occuparsene e insegnarli ad essere obbediente. Per questo dovrà anche imporsi contro il suo carattere forte. D'altro canto, una socializzazione fin dalla sua più tenera età potrà far diventare questo cane molto gentile. Il Boerboel è un cane robusto e intimidatorio che viene direttamente dal Sudafrica. Inizialmente veniva utilizzato per mantenere il gregge e proteggerlo contro gli animali selvatici, quindi è un cane molto coraggioso ed intelligente, che può anche mostrarsi molto affettuoso verso la sua famiglia. Ma allora per quale motivo è vietato possederlo in alcuni paesi? Ebbene, molto semplicemente perché a questo cane non piacciono gli ospiti. Il Boerboel può mostrarsi aggressivo verso gli estranei e gli altri cani. Poco socievole, il Boerboel mi dirai, ebbene può essere uno dei suoi più grandi difetti. Ecco perché deve essere socializzato fin dalla sua più tenera età. La persona che si occuperà del suo addestramento dovrà tuttavia dimostrare molta pazienza e molta esperienza. Ecco il Pastore del Caucaso. Questo cane di origine russa viene considerato come un ottimo cane da guardia e di difesa. Coraggioso e molto devoto alla sua famiglia e molto protettivo. Peraltro il suo forte istinto protettivo lo rende un cane aggressivo e molto diffidente verso gli estranei. Questo orsacchiotto è famoso per la sua indipendenza e il suo carattere forte e dominante, il che non gli impedisce tuttavia di essere sensibile. E poi può anche essere un ottimo compagno e andare d'accordo con altri animali, perché se viene socializzato bene in giovane età può dimostrarsi molto affettuoso. Tuttavia, attenzione, non bisogna stimolare la sua aggressività durante il suo addestramento, perché questo cane tende a mordere se viene provocato. Tra i cani che appaiono nella nostra lista del giorno c'è l'Aski. Come? Può sembrarti sorprendente che questo bellissimo cane diffusamente adottato venga considerato come un cane aggressivo. Ebbene, bisogna dire che questo cane possiede comunque una buona mascella e sono in grado di infliggere un bel morso se succede loro di attaccare qualcuno. Ma in realtà, secondo alcuni veterinari comportamentisti, questa aggressività sarebbe piuttosto legata alla personalità del cane stesso e non alla sua razza. Non bisogna nemmeno trascurare il loro spirito di branco e il loro carattere dominante, specialmente tra gli Aski che vengono dagli allevamenti di cani da slitta. Ad esempio, i Siberian Aski rappresentano, secondo alcuni esperti, una delle razze più pericolose verso i bambini. Infatti, possono causare delle lesioni gravi e talvolta fatali. Questo non li impedisce di essere bravi cani se sono addestrati bene, perché geneticamente l'Aski non è un cane d'attacco. Ora ecco un cane che ti farà fuggire a causa del suo aspetto impressionante. L'alano tedesco, o grandanese, non ha tuttavia motivi per farti paura, perché questo gigante possiede piuttosto un carattere molto docile, calmo e molto affettuoso e molto tenero verso i bambini, il che lo rende un ottimo cane da compagnia e da terapia. Il suo carattere aggressivo e distruttivo può tuttavia scatenarsi in alcune condizioni, quando è ansioso, da solo o stressato, per esempio. Quindi è necessario addestrarlo bene fin dalla sua più tenera età e fargli rispettare un buon numero di regole, come il fatto di non saltarti addosso per salutarti o per testimoniarti il suo affetto. Ti immagini un alano tedesco adulto di 80 kg e di circa un metro di lunghezza che salta addosso a un bambino, oppure una persona anziana, ma generalmente l'addestramento non crea problemi all'alano tedesco perché è obbediente e poi è anche un buon cane da difesa che può dimostrarsi riservato verso gli stranei. Infatti possiede un forte istinto protettivo e non esita ad accorrere in aiuto del suo padrone se quest'ultimo è in pericolo. Eh sì, l'alano tedesco è un cane molto coraggioso e anche un cane pacifico verso gli altri cani qualunque sia la loro dimensione. Questo cane di origine britannica ha frutto di un incrocio tra un mastino e un bulldog inglese a buone ragioni per far paura, a causa della sua sagoma intimidatoria e del suo aspetto cattivo. Cane da combattimento e da guardia, il bull mastiff possiede un ottimo fiuto e molto coraggio, oltre ad una grande capacità di apprendimento. Ma nonostante il suo aspetto da cane cattivo, questo molosso è piuttosto calmo, giocherellone e dimostra buon umore. Inoltre è famoso per il suo istinto protettivo e per il suo attaccamento verso il suo padrone. Questo cane devoto non ama essere lasciato da solo. In questo caso può diventare distruttivo se viene lasciato da solo troppo a lungo. A proposito, deve essere addestrato bene e socializzato fin dalla sua più tenera età, perché ciò gli impedirà di diventare aggressivo successivamente. Il suo addestramento deve farsi in modo fermo e senza violenza, ma soprattutto il suo padrone deve instaurare con lui una buona relazione, perché il bull mastiff ama che venga rispettato. Se ti diverti a tirargli la coda quando non è di buon umore, oppure se lo disturbi durante il suo sonno, aspettati quindi un bel morso. Chi tra di noi non ha mai sognato di avere un cane come Belle di Belle e Sébastien, questo grande pupazzo vivente, ci ha meravigliato tutti da bambini, vero? Belle è un cane da montagna dei Pirenei, chiamato anche patou, viene utilizzato per difendere i greggi e non è di natura aggressiva. Infatti i patou sono piuttosto addestrati per dissuadere, anche se può succedere loro di attaccare gli escursionisti che osano avventurarsi vicino loro, perché pensano che questi ultimi disturberanno il greggio e che proteggono e li vedono quindi come pericoli eventuali. Nonostante ciò, il patou possiede grandi qualità, visto che è paziente, premuroso, coraggioso, forte e indipendente. Ecco perché un buon addestramento richiederà molta pazienza e fiducia da parte dell'addestratore. Se viene educato bene e socializzato fin dalla sua più tenera età, il patou diventerà allora un cane affettuoso, molto tenero e particolarmente tenero con i bambini. Tuttavia bisogna sottolineare che i patou siano cani che non amano la solitudine e che si annoiano facilmente. Se non trovano nulla da fare, possono mostrarsi distruttivi. Ora parliamo di un cane che viene dal Brasile. Il filabrasileiro, o mastino brasiliano, era in passato utilizzato per proteggere i greggi contro gli animali selvatici e persino come rilevatore della polizia brasiliana. È anche un molosso che può intimidire chiunque a causa del suo aspetto. Eppure questo grande cane da guardia possiede numerose qualità, a patto che sia addestrato correttamente e senza violenza. Intelligente, affettuoso, calmo e protettivo è anche facile da addestrare e può dimostrarsi molto intelligente con i bambini. In realtà è un buon cane da compagnia che può essere felice presso i suoi padroni e che può persino rimanere da solo senza problemi. I suoi difetti? Ebbene, come numerosi altri cani può mostrarsi diffidente verso gli estranei e diventare allora aggressivo, da cui l'importanza di socializzarlo. Quando si parla dei cani con la corporatura spaventosa, una delle razze che ci viene in mente è il boxer. Questo cane muscoloso di origine tedesca possiede infatti tutte le caratteristiche che lo rendono un cane intimidatorio. Ma è davvero pericoloso? Beh no, questo cane è molto popolare e lontano dall'avere un brutto carattere. Sicuramente può mostrarsi un po' testardo, il che renderebbe il suo addestramento un po' difficile, ma possiede molte qualità. Infatti il boxer è un cane energico, paziente e molto intelligente. Coraggioso, pieno di fiducia e molto devoto alla sua famiglia e protettivo, il che lo rende diffidente e persino aggressivo verso gli estranei se sente che i suoi padroni corrono un pericolo. Ma al di fuori di questo, te lo ripeto, il boxer non è considerato come un cane pericoloso, tuttavia attenzione a non stimolare la loro aggressività. Gli viene appiccicata spesso l'etichetta di cane cattivo, violento ed assassino. Sai di che cane parlo? Il pitbull ovviamente. Quelli che hanno la sfortuna di incontrarne uno sulla propria strada hanno molto spesso voglia di scappare a gambe levate. Ma è davvero così? I pitbull sono davvero cani pericolosi al punto di essere vietati in molti paesi? Bene, non è proprio così. Sicuramente è vero che il pitbull ha un passato poco glorioso perché all'origine veniva utilizzato come cane da combattimento, da cui deriva la sua cattiva reputazione. Ma in realtà l'aggressività del pitbull dipende dal suo addestramento. Se viene addestrato, con rigore e senza violenza, non sarà sicuramente più aggressivo rispetto a un altro cane. Talvolta può benissimo dimostrarsi rissoso con altri cani, ma ciò non gli impedisce di avere un bel carattere e di essere fedele, socievole, tenero e anche molto affettuoso. Allora, ti andrebbe di averne uno? Erano i 12 cani che fanno più paura. Possiedi una di queste razze canine? Lasciaci la tua risposta nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti, non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!